Giacomo Bombardi non è un fotografo professionista, gli domandiamo come è maturata in lui l'idea di realizzare questi scatti e di fare questa esposizione. Allora bene, infatti ci tengo a precisare che non sono appunto un fotografo professionista, il mio è solamente un hobby, che è sicuramente facilitato dal lavoro che faccio. Infatti sono un agente faunistico venatorio e mi occupo di vigilanza appunto sul territorio per la provincia di Arezzo. Questa passione appunto riesce in un certo qual modo a mettermi in contatto con situazioni molto particolari di carattere appunto naturalistico, andando da uno scorcio paesaggistico piuttosto che un animale ripreso in una situazione particolare. E quindi tutto questo riesce in un certo qual modo, come dicevo prima, ad appagare questo senso di curiosità che è innato, in me e spero sicuramente ad accostare anche quanto più gente possibile a questo settore sicuramente. Fino a quando rimarrà visitabile questa mostra? Allora, la mostra è visitabile in questo fine settimana ed è ad orario continuato, quindi il 5, il 6, il 7 di aprile. Verrà prorogata al primo fine settimana di maggio sicuramente, poi in base alle visite spero anche possa essere prolungata per un paio di mesi oltre.